Tu sei conosciuto a livello europeo per essere un precursore dell'online, magari dopo parleremo anche di questo, però hai una produzione fisica con 5 negozi, che cosa cambierà secondo te, non solo per la tua azienda, ma per le imprese in generale, da lunedì, che cosa succederà? Il problema è che di cose ne sono già successe veramente tante in queste 7-8 settimane, a un certo punto effettivamente le cose si sono fermate, quindi le persone hanno cominciato a non voler più frequentare i punti affollati e hanno cominciato a stare a casa. Stando a casa, per quanto riguarda il nostro settore, diciamo che le persone hanno preso chiaramente più confidenza con degli strumenti che magari prima utilizzavano meno e sono successe due cose, Mauro, importanti. Da un lato le persone, questo è il lato del mio settore, stando a casa si sono accorti che probabilmente la loro casa andava pensata in modo diverso sotto tanti punti di vista, quindi hanno cominciato a utilizzarla, hanno cominciato a vedere che probabilmente alcune disposizioni non andavano bene o che alcuni suggerimenti ricevuti non da professionisti non erano adeguati e hanno cominciato a mettere in discussione tante scelte importanti che una volta andavano bene perché non si erano fatte determinate riflessioni. Quindi sicuramente per quanto ci riguarda dal nostro lato abbiamo molto da fare perché abbiamo molto da dialogare con i clienti per aiutarli a cambiare o a migliorare affiancandoli nei loro bisogni. Ci ha fatto capire quanto veramente sia importante il nostro lavoro e quanto possiamo incidere nella vita delle persone in meglio facendo il nostro lavoro fatto bene, mettendo in campo la nostra esperienza, la nostra professionalità e questa è una cosa illuminante, veramente illuminante. Dall'altro lato invece per quanto riguarda il mio settore ho notato che c'è stata un'accelerazione di quelli che erano i trend probabilmente già in atto e tornando al discorso degli anticorpi tanti nodi sono venuti al pettine per cui tante aziende che non avevano investito, ma non solo nel digitale, ma comunque avevano seguito la scia di mercati che una volta andavano bene, poi quando andavano bene cambiavano e poi cambiavano ancora, cambiavano ancora. Quindi di fronte a una strategia che era quella di probabilmente fare la cosa più facile, che era quella di produrre e poi di mettere a disposizione del cliente più facile a disposizione e il trend in atto che prevedeva la fine di questi mercati uno dopo l'altro o di questi clienti che poi trovavano uno dopo l'altro effettivamente si è accelerata e oggi, la settimana scorsa doveva esserci il Salone del Mobile, il Salone del Mobile è stato un altro grande evento che da un lato aumenterà la competizione, la fine del Salone del Mobile, la non celebrazione di questa manifestazione, metterà in campo sicuramente grande e nuova e fertile competizione delle aziende, perché a un certo punto tu avevi la fiera che ogni anno era lì, che ti aspettava, tu avevi il tuo stand, aspettavi i tuoi clienti, facevi qualche campionatura, poi bello felice andavi a produrre, adesso banalizzo chiaramente perché non è proprio così, insomma ognuno lo gestiva in qualche modo, però questa fiera la realtà è che non c'è più, non c'è stata più e magari l'anno prossimo sarà magari diversa, sarà differente oppure alcune aziende non ci saranno, questa cosa ha messo obbligatoriamente in moto il cervello di molti imprenditori che hanno dovuto pensare e farsi la domanda che non avrebbero mai voluto farsi, perché ogni anno il Salone era lì, il più grande evento al mondo del design con il fuori salone che è il più grande evento pubblico legato al design nel mondo, insomma a un certo punto non c'è più, quindi che cosa facciamo, in che modo cambiamo la nostra azienda, in che modo possiamo trovare nuovi clienti, possiamo soddisfarli, cosa dobbiamo fare, insomma le domande che probabilmente tante persone avrebbero voluto farsi nel corso degli anni e man mano fare degli upgrade, se le sono dovute fare nel giro di pochissimo tempo e lunedì si apre, quindi l'accelerazione è devastante. Si torna al nostro santo, alzati e fattura. Senti, la prossima domanda… Senti, la prossima domanda… Senti, la prossima domanda…